benvenuti e bentornati cari amici effenauti oggi facciamo un video diverso dal solito niente di preparato niente di tecnico anche se io lo sapete di tecnica non ne parlo poi tantissimo e niente a che fare però con quello che ci si aspetterebbe parlando di street photography io voglio fare un video così oggi un po chiacchierato un po intimo ma di sicuro appassionato perché qualche giorno fa mi sono imbattuto in qualche commento a questo mio progetto di f4 e volevo affrontarlo insieme a voi c'è chi mi ha detto conoscendovi da 30 anni di continuare ad essere sempre me stesso perché così continua ad emozionare c'è addirittura a chi mi ha detto che forse sono troppo romantico invece dovrei essere un po più descrittivo e di conseguenza anche un po più sintetico c'è anche chi mi ha detto semplicemente grazie perché lo faccio sognare tutte le volte e poi proprio oggi gli amici di f4 quelli che mi ispirano quotidianamente mi hanno chiesto perché la street fotografia è sempre ai margini quasi rinchiusa in se stessa io approfitto perciò oggi di questo spazio per confidarmi e sfogarmi un po spiegando anche perché ho deciso di andare contro tutto quello che già confezionato io so di non essere una persona semplice a tratti sono pesante a volte sono sopra le righe e altre volte sembro disarmonico però sono esattamente sempre quello che si vede da questi video a volte sono sopra le righe è vero a volte sono più dimesso e a volte sono più spavaldo ma il motivo è sempre lo stesso parlo di qualcosa che mi sta tremendamente a cuore cioè la fotografia di strada è il motivo per cui ho fondato f4 e proprio creare uno spazio dove non lasciarmi sopra a fare da quello che si deve fare per forza da quello che è più conveniente oppure da quello che è più più funzionale perciò ma fan culo ai corsi di marketing che ho ricevuto e che ho ottenuto fan culo alle buone maniere dei radical chic e fan culo alla street photography come me l'hanno insegnata fino ad oggi ogni giorno noi ci svegliamo ricoperti da una valanga di immagini una babbele di forme e di colori che condiziona ogni singolo istante della nostra vita siamo circondati di immagini dalle prime pagine dei giornali alle affissioni ai volantini pubblicitari dai flussi continui dei social media ai milioni di contenuti dei siti web tutte quante queste immagini alcune sono potenti altre sono sicuramente affascinanti riescono a risvegliare in noi dei ricordi che sono sepolti da una coltre di cazzi che aumenta ogni giorno e a scatenare un vortice di emozioni che alimenta sempre la nostra la nostra immaginazione ma quante volte però ci fermiamo veramente ad assorbire quello che queste immagini ci offrono i web così come i social media instagram vero flickr sono diventati i nostri musei personali delle gallerie virtuali in cui ci perdiamo dalla contemplazione di opere d'arte di altri fotografi cercando di afferrare il loro stile unico la loro interpretazione artistica e quanto sappiano dominare la tecnica fotografica perché una vita che ci insegnano questo regole su regole regole su regole eppure nonostante questa eccellenza tecnica quello che spesso manca è l'elemento più importante di tutti l'emozione viviamo in un mondo pieno di fotografie mozzafiato così straordinarie da sembrare quasi surreali e oggi che tutti quanti ci stiamo scandalizzando per l'intelligenza artificiale perché falsa la realtà senza ammettere che fino a qualche mese fa era lo stesso ma soltanto appannaggio di pochi e ancora tutto quanto più amplificato eppure in quest'epoca di saturazione visuale c'è un bisogno enorme di andare oltre la semplice bellezza per raggiungere un livello più profondo un legame più emotivo con chi guarda l'emozione però non è un filtro che può essere applicato in post produzione non c'è il cursore su lightroom e neppure su lumina rai non si può aggiungere con un livello di photoshop non può essere costruita non può essere manipolata l'emozione deve partire direttamente da qua dall'animo del fotografo sempre perché è quello che ci hanno fatto credere noi potremmo pensare tranquillamente che i fotografi vivono in uno stato di costante commozione per il loro lavoro e per i loro progetti ma la verità è che molti di questi perdono proprio la capacità di emozionarsi per poi emozionarsi ovviamente di nuovo soltanto quando qualcuno gli dice wow per quel preset sensazionale che poi mette in vendita sui suoi canali social ma non è emozione questa è dopamina è una droga naturale sì ma non per questo è meno pericolosa perché il rischio è un universo di immagini tutte uguali fino alla prossima moda per riuscire a trasmettere emozioni attraverso le nostre immagini dobbiamo prima permettere alle emozioni di muoverci quando noi creiamo un'immagine c'è un legame invisibile magico che si forma tra il fotografo e il suo scatto è un legame che va ben oltre alla macchina fotografica nasce proprio nell'istante esatto in cui il fotografo si immerge completamente nella scena task positive network quando si quando il fotografo si sintonizza completamente con l'immagine che sta per catturare se il fotografo si lascia realmente toccare da quel momento sarà in grado di rappresentarlo nel modo più autentico e intenso possibile perché il suo modo di rappresentarlo questa è l'unica vera distinzione non importa quante volte una scena sia stata immortalata da milioni di fotografi ogni volta che un fotografo cattura l'essenza di un momento riesce a creare qualcosa di unico un fotografo che sa lasciarsi emozionare di fronte una scena sarà in grado di catturare qualcosa di diverso qualcosa che va oltre la rappresentazione qualcosa che farà emozionare ecco quindi la chiave per mantenere viva la passione per la fotografia e per rendere la street photography finalmente un'arte che merita spazio e riconoscimento indipendentemente dall'aspetto finale dell'immagine se siamo in grado di emozionarci noi nel momento in cui premiamo il pulsante di scatto la nostra passione non si esaurirà mai e con essa neppure la voglia di continuare a fotografare ad esprimerci in un mondo in cui le immagini diventano sempre più omogenee la competizione è sempre più intensa è facile perdere di vista quello che veramente conta la nostra sfida come street photographer non è soltanto quella di creare un'immagine che emozioni ma di rivelare un momento che abbia emozionato noi per primi non dobbiamo limitarci a mostrare una bella immagine dobbiamo comunicare alle persone che in quel preciso istante ramo noi i primi ad esserci emozionati questo è il messaggio più potente che possiamo trasmettere questa è l'unica regola che conta la fotografia non è soltanto una questione di tecnica è un'arte un'arte che ci permette di condividere emozioni sentimenti percezioni non dimentichiamoci mai di emozionarci noi perché quando lo facciamo creiamo qualcosa che è sinceramente straordinario la fotografia per me è un modo per interagire con il mondo ma farlo in profondità è un percorso di crescita personale e trasformazione è una sfida per diventare più completo sicuramente più concentrato è un catalizzatore per l'espressione creativa e un mezzo per raggiungere la comprensione e l'approfondimento la fotografia può essere una pratica interiore coinvolgendoci completamente nel nostro impegno verso il mondo ma può anche essere una piattaforma per condividere domande osservazioni scoperte e uno stile di vita e un cammino che è fatto di luce e stavolta ve lo chiedo a voi cosa c'è di più bello di un mezzo che è basato sulla luce cosa potrebbe essere è realmente più affascinante di un dispositivo che abbiamo nelle mani che diventa una metafora un'estensione del nostro cervello e del nostro sistema nervoso aggiungete poi a questo gli occhi la mente il cuore e otterrete una miscela potentissima si chiama street photography e non c'è da stupirsi per questo se è diventata così popolare io non ve l'ho chiesto prima perché l'avete visto no mi sono sfogato sono esplodevo ma adesso se vi è piaciuto il video mettete like iscrivetevi al canale condividete con tutti perché più siamo e più impariamo e non dimenticate di commentare con pettinati ciao e alla prossima